Manca un solo punto al Fanello in maglia nero arancione bianca per conquistare il campionato di prima categoria Girone D dopo la vittoria numero 20 conquistata oggi ai danni del castello. Andiamo con le immagini, sono gli ospiti a rendersi pericolosi con questa svirgolata centro area di Isidori che comunque allontana il pericolo. Ma il Fanello con un esterno sinistro con la palla che finisce sul fondo. Buona la partita comunque del castello che ha impegnato la capolista. Qui in ripartenza il gran destro che va a colpire la traversa a portiere probabilmente battuto. Poi qualche apprezzione da parte della difesa del Fanello e qui da conclusione da lunga distanza da parte di Bomber raccogli parata dal portiere. Ma c'è l'occasionissima anche per Di Giovenale la sua conclusione termina alta sopra la traversa così come l'occasionissima sta per confezionarla anche il Fanello. Il rimpallo però non favorisce gli attaccanti di casa. La palla arriva ancora a Isidori il cross in mezzo il tiro di prima intenzione da parte di Cochi e c'è la parata del portiere. Poi ancora in avanti il Fanello ancora Cochi che lavora il pallone con le immagini passiamo però alla ripresa con i padroni di casa che vogliono imprimere la loro legge anche su questo match. Qui c'è un'ammunizione ai danni del numero 9 di Giovenale. Azione del Fanello. Palla in mezzo completamente solo di battere a rete raccogli però il gol viene annullato. Invece non viene annullato il gol proprio di raccogli al minuto 21 che sblocca la partita e dunque Fanello 1 Castello 0. Ma sono ancora i padroni di casa sulle ali dell'entusiasmo ad esseri pericolosi. Qui c'è il tiro dalla lunga distanza molto bello che fa la barba al palo. Ma il raddoppio è nell'aria. E arriva prima questa ottima opportunità per il Fanello con Cochi che sbaglia quando avrebbe potuto servire invece il meglio passato compagno a centro area Ferliccia. Poi c'è un'uscita alquanto rischiosa da parte del portiere che però riesce ad ottenere quello che vuole cioè ad allontanare la minaccia. E arriva eccolo qua il raddoppio del Fanello il solito raccogli in piena area di rigore in fila la rete del quello che è il 2 a 0. Eravamo al 35esimo poi al 48esimo Rossi accorcia le distanze. Oggi è stata una partita molto difficile. Castello ci ha impegnato fino all'ultimo secondo e per fortuna che siamo riusciti comunque a fare due golle e a portare in porto questi tre punti. Sono tre punti che ci fanno allungare ancora. Adesso abbiamo soltanto un punto da fare per la matematica. Diciamo che la Porsche vince le singole gare, la Maserati vince il campionato. Grazie. Buonasera a tutti. Allora la partita è stata una partita diciamo molto tirata e dettata dagli episodi. Purtroppo per quanto riguarda la squadra nostra non è stata molto fortunata al primo tempo. Ha centrato una traversa, un incrocio dei pali e magari andando in vantaggio potrebbe prospettare un altro tipo di partita. Nel secondo tempo il valore dell'avversario che è meritatamente prima in classifica è venuto fuori e è un errore nostro, sono andati in vantaggio. Poi noi abbiamo provato tutto per tutto per cercare di ribaltare la partita. In contropiede abbiamo preso il secondo, abbiamo accorciato troppo tardi e abbiamo preso un altro palo precedentemente. Che dire, la strada nostra è ancora lunga ci è piaciuto confrontarci con un avversario più strutturato di noi ce la siamo giocati quasi alla pari complimenti a loro che credo abbiano vinto il campionato se non hanno vinto matematicamente non lo so non ho guardato i risultati delle altre partite e speriamo comunque che questo castello possa togliersi qualche soddisfazione perché oggettivamente se le merita se le merita perché nonostante la nostra piccola realtà venire qua e giocarsela alla pari significa tanto per quello che comporta i nostri valori e il nostro modo di essere. Quindi faccio ancora i complimenti a loro e speriamo noi possiamo raggiungere questa salvezza in anticipo che penso, come abbiamo dimostrato oggi, di meritarcela.